www.feyyaz.tv Signore, ho forse sbagliato chiesa? Non me ne avevi data una piena di poveri? Ma di che tu ti stufisci? Credi? Credi che basti essere povero per stare dalla parte dei poveri? Questi, questi non parlano perché voi li avete insegnato voi a stare sempre zitti, a chinare sempre la testa. Grazie a tutti. Se lei non mi onora oggi, con un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato, come qualcosa di simile all'opera di un pastore protestante. Ma io sono stato fedele sempre e solo alla mia Santa Madre Chiesa. Ed è questo lo sa benissimo, cordialmente vostro, Lorenzo Milani, sacerdote.